ecco buonasera ragazzi complimenti e auguri questo rinnovo del bar delle rose ormai è una tradizione a piano di sorrendo da quanto tempo c'è la terza inaugurazione quanti anni sono luigi 32 anni che stai sulla piazza sempre con tanto successo e con tutte le tue cose buone gelati dolci ma c'è qualche novità adesso c'è un po di gastronomia inserito allora tu invece ti dividi tra questo e il bar dei pini o tradisci uno per l'altro no 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 sta qua e la tutta la famiglia che collabora sì sì indubbiamente questa è fuori discussione il gelato fai sempre tu sempre io con la cognata andiamo sul sicuro auguri e complimenti a tutto per altri cento anni